Erano arrivati a chiedere il pizzo anche per la fissione dei manifesti elettorali dei candidati della provincia di Caserta in occasione delle elezioni regionali e provinciali nella primavera del 2010. Sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso i destinatari delle 10 ordinanze di custodia cotelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della procura antimafia partenopea che la squadra mobile di Caserta sta eseguendo nell'abito di un'operazione denominata Wild Poster. Si tratta di esponenti di vertice del clan Belforte e Piccolo di Marcenise, in passato protagonisti di una sanguinosa faida che avevano messo in piedi una diffusa e capillare attività estorsiva tra Caserta e Marcenise. Tra le vittime delle estorsioni figurano anche i gestori di due caseifici da anni vessati dalle pretese dei due clan. A finire in manette Raffaele Bellopede, 56 anni, il pregiudicato Fabio Buanno, 48 anni, organico al clan Piccolo, il 62enne Genaro Buonanno, detenuto, considerato uno dei fondatori del clan Belforte, e suo figlio, il 30enne Giovanni Buonanno. Concetta Buonocoro, 49 anni, Salvatore Buttone, 34 anni, fratello di Bruno, elemento di vertice del clan Belforte, Arcangelo Gagliardo, 39 anni, Nicola Petruolo, 33 anni, il sorvegliato speciale Pasquale Piccolo, 51 anni, detto Rockefeller, attuale reggente del clan Piccolo, e Roberto Trombetta, 47 anni. Secondo le indagini, le due fazioni camborristiche, quella dei Belforte, detti Mazzacane, e dei Piccolo, detti Quacquarone, protagoniste nel corso degli anni 90 di una lotta per il controllo al territorio, per fronteggiare l'incisiva azione di contrasto attuata dalle forze dell'ordine, avrebbero stretto un patto di pace e allo stesso tempo una sorta di sodalizio. Tra le varie ipotesi delittuose contestate agli indagati spiccano l'estorsione ai danni di un imprenditore, a cui era stato affidato in tutta la provincia di Caserta, il servizio di affissione dei manifesti elettorali, costretto a pagare 25 mila euro agli emissari delle organizzazioni camorristiche. Tra le vittime dell'estorsione anche alcuni casefici, ai quali gli emissari dei clan imponevano il pagamento dei rate estorsivi, in concomitanza delle festività natalizie e pasquali.